buongiorno night city alla lotteria delle vittime di ieri è stato estratto un bel 30 10 solo a haywood grazie alle guerre tra bande una vittima per la polizia quindi siete fottuti perché l'ncpd non la farà certo passare liscia e un altro blackout a santo domingo i netrunner ci danno dentro con i buchi nella rete elettrica a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ehi, hai da cambiare un centro. Cosa sono, la panca? Eh dai, non riesco a dare a sé. Io ci sono, tu ci sei? Ehi, hai da cambiare un centro. Ehi, hai da cambiare un centro. Ciao. 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 Non sparare. Sono un medico, non sono della gang. Lo so, sei Lucy Tucker. Questa merda si è spenta ancora, cazzo. E tu sei? V, tuo fratello vuole che ti porti via da qui. Berti, ok, ok, solo un attimo. Senti, non c'è tempo. L'hardware che hanno qui dovrebbe stare in una discarica. Dobbiamo andare, ora. Già che sei ancora qui, fagli una scansione. Dici sul serio? Cristo, li vedo, i tuoi impianti. Fagli una scansione. La pressione sta calando, e anche la temperatura. Sta andando in shock. Cerco di arrestare l'emorragia. Tu dagli un'unità di sangue sintetico. Forza, dai! È sul tavolo. Il primo a sinistra. Sbrigati, sta morendo di sanguoto. Non nella mia mano. Oh, ok. Dobbiamo aspettare un po' prima che si chiuda. Sbrigati a concludere. Ok. Ok, direi che la crisi è scongiurata. Adesso deve solo farsi una dormita. Grazie. Ora possiamo andare. Stammi vicina. Tieni giù la testa. Dai. Ancora un pochino. Il tuo passaggio. Sali. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.